Ciao a tutti ragazzi, buon giovedì e benvenuti a Videogame News, la rubrica di EveryEye.it che vi permette di essere sempre aggiornati con tutte le notizie del mondo dei videogiochi. Oggi non possiamo che cominciare da Microsoft. Proprio negli scorsi giorni infatti la casa di Redmond ha annunciato un modello di Xbox One venduto senza Kinect a 399€. Sarà commercializzato a partire da giugno e naturalmente la notizia è stata uno scossone un po' per tutta l'industria generando polemiche ma anche tante approvazioni perché sicuramente dal punto di vista del puro mercato si tratta di un'ottima notizia. Abbiamo finalmente avuto le tanto attese novità sul programma Games with Gold che comincerà anch'esso dal mese di giugno su Xbox One con Allo Spartan Assault e Max The Curse of Brotherhood che potranno essere scaricati gratuitamente. Bisogna tenere presente che il funzionamento è come quello di PlayStation Plus, conseguentemente bisogna mantenere l'abbonamento Gold per continuare a godere dei titoli adesso legati. Sicuramente Microsoft sta cercando di recuperare terreno su Sony che con PlayStation 4 è naturalmente leader nelle vendite, queste due mostre sicuramente potrebbero aiutarla molto in questo senso e lo scopriremo naturalmente a partire dal mese prossimo. E passiamo ad Ubisoft che ha finalmente dato dati ufficiali relativamente alla risoluzione di Watch Dogs. Il gioco girerà a 900p su PlayStation 4 e a 792p su Xbox One, entrambe 30 frame per secondo. Jonathan Morin, uno dei direttori del progetto, ci ha tenuto a commentare su questa situazione dicendo che il focus del team di sviluppo non è stato tanto la risoluzione, quanto rispettare il più possibile la visione dei game designer, quindi offrire al pubblico un gioco che potesse dare davvero una sensazione di libertà e l'idea dell'hacking come strumento per arrivare ai propri scopi. E questo loro sono convinti di aver raggiunto, quindi per loro la risoluzione è una cosa tutto sommato relativa. Ricordiamo inoltre che il gioco è entrato in fase gold, quindi si conferma la data di uscita del 27 maggio su nuova vecchia generazione e PC. Gli utenti Wii U invece dovranno aspettare ancora un po', verso la fine dell'anno probabilmente. E passiamo adesso a Blizzard che ha confermato l'uscita della Ultimate Evil Edition di Diablo 3 anche su Xbox One e console di vecchia generazione, sempre il 19 agosto. Vi ricordiamo che questa edizione comprende l'espansione Reaper of Souls, una nuova modalità definita apprendista che sarà dedicata ai giocatori alle prime armi, ma soprattutto il multiplayer sia in locale sia online e ovviamente la possibilità di condividere tutti i propri tesori con gli altri utenti tramite un sistema di mail di gioco. Come avrete sicuramente capito leggendo la nostra anteprima gli scorsi giorni, Sunset Overdrive ci ha veramente impressionato e non vediamo sinceramente l'ora di metterci le mani. Gli sviluppatori Insomniac hanno finalmente confermato la presenza di una modalità cooperativa. Purtroppo non hanno dato dettagli, se non che ovviamente verrà supportata da Xbox Live. Ci hanno tenuto inoltre a ribadire che la modalità singolo giocatore sarà pienissima di cose da fare, soprattutto armi da sbloccare, segreti da scoprire. Insomma, l'attesa per questo titolo diventa sempre più calda. La software house Krillbyte Studios ha confermato l'uscita del suo particolarissimo horror Among the Sleep anche su PlayStation 4. Dicevamo particolarissimo perché vi metterà nei panni di un bambino di due anni, quindi una creatura estremamente vulnerabile. Si parla anche di supporto al visore Project Morpheus di Sony e forse di una versione Wii U ma soltanto più avanti. E passiamo a Sony che ha comunicato i risultati del suo anno fiscale, chiusosi naturalmente il 31 marzo. La compagnia ha registrato perdite per 1,25 miliardi di dollari e soltanto la fase entertainment ha perdite per 8,1 miliardi di yen. Non si tratta sicuramente di un buon risultato che sembra andare in controtendenza con le ottime vendite invece di PlayStation 4 che hanno raggiunto i 7 milioni di pezzi in tutto il mondo. Purtroppo la lunga fase di progettazione e marketing ha avuto un costo altissimo ma c'è anche un altro problema. PlayStation 3 ha conosciuto un arresto delle vendite molto prima di quanto Sony si aspettasse. Speriamo che gli annunci che sicuramente arriveranno dalle 3 2014 ormai di qui a pochissimo possano risollevare un po' questa spirale negativa. E passiamo adesso alle nostre immancabili top e flop news. Il top di questa settimana non possiamo che concederlo a Super Time Force. Il Frenetico sparatutto di Capybara Games ci ha davvero impressionato con il suo gameplay legato alla manipolazione del tempo. Infatti ogni qualvolta morirete in questo gioco potrete poi rigiocare allo stesso livello con voi stessi, quindi con il vostro ghost tra virgolette. Veramente un'idea fantastica che ci ricorda ancora una volta come spesso le idee più fresche in questo momento arrivino dal mercato indie. E il flop di questa settimana va invece purtroppo all'edizione PlayStation Vita di Borderlands 2. È disponibile soltanto da qualche giorno negli Stati Uniti ma all'unanimità utenza e critica hanno riscontrato moltissimi problemi. Non soltanto una qualità grafica decisamente sotto le aspettative ma anche un forte lag che sembra affliggere purtroppo i comandi della portatile. Speriamo che di qui all'arrivo in Europa previsto per la fine del mese gli sviluppatori riescano a fare qualcosa magari tramite patch. Potremo saperlo soltanto all'uscita quando vi forniremo la nostra recensione. Per l'edizione di oggi era tutto. Noi come sempre vi diamo appuntamento al prossimo lunedì. Ciao!